Questa settimana, più o meno, me la sono immaginata così, anche parlando che mio fratello è già a giro nazionale da qualche anno, quindi se ne parla, quando siamo a casa così, me l'aveva già spiegato un po' come andavano le settimane prima delle partite, quindi sì, anche l'attenzione, tutta questa roba qui me l'aveva già parlata. Non me lo aspettavo di partire subito a titolare, però l'ho colto a braccio aperto, super contento e quindi spero che vada tutto bene. Ancora la tensione non c'è tanta, però solamente domani, il giorno prima della partita, non sarà facile, vediamo se si dorme. Quando ho iniziato a giocare al rugby ho provato tanti ruoli, dal centro al 10, all'estremo, perché nel club c'è da un po' da tappare i ruoli. Poi quando ho iniziato ad andare in Accademia, sì, ho sempre andato terza lì a numero 8 e quando giravo le partite dell'Italia, insomma, guardavo Sergio Parisse, ecco, mi ispiravo a lui. E vorrei vestire appunto la maglia nazionale numero 8, è un orgoglio, diciamo. Mi aspetto, sconti fisici, però il mio punto, diciamo, è fare tanto work rate, partite così, portare palle, placcaggi, quindi lavorare tanto, tanto, tanto. Mi aspetto una partita molto, molto bella. Dopo me aspetto. Grazie a tutti